salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video come potete leggere dal titolo che vi assicuro non è clickbait a mio parere la community che si sta esprimendo sul web sia per quanto riguarda youtube italia un po meno per youtube america non ha capito un caso del nuovo mac pro infatti come possiamo vedere dal sito apple questo è un computer che innanzitutto è una bestia nel senso che il suo hardware è veramente molto potente infatti con una configurazione con un processore intel xeon fino a 28 core è uno xeon v quindi un processore da server possiamo dire e una capacità di ram pari a 1586 gigabyte 1,5 terabyte che lavorano in esa channel quindi a 2 a 2 moduli a 128 gigabyte l'uno 12 moduli al fino ad arrivare ad al supporto delle schede video che supportano fino a 4 gpu con una vega duo di seconda generazione che vanta fino a 128 gigabyte di v ram quindi della memoria video ma perché voglio dire che la community non ha capito nulla bene iniziamo subito dunque partiamo dal fatto che questo mac abbia in sito delle componenti eccezionali come un'ottima scheda io che quella proprietaria di apple per l'input e output che permette delle velocità sul time board 3 assurda ma la componentistica del computer e la sua caratteristica principale e il fattore modularità infatti i professionisti richiedono da tempo un mac aggiornabile nel tempo ciò significa che se oggi acquistiamo la configurazione base a 6.000 dollari domani possiamo compiere un upgrade se andiamo a vedere il prezzo maxato di questo computer allora non abbiamo capito nulla perché innanzitutto il prezzo base va contestualizzato anch'esso infatti ho visto youtuber che fanno la somma dei vari componenti e ottengono cifre di circa 3.000 euro peccato che questi youtuber abbiano dimenticato la cosa più importante la scheda madre infatti ragazzi non è che noi acquistiamo il modello base 32 gigabyte e la scheda madre è una scheda madre con 32 gigabyte di ram no quella scheda madre reggerà fino a un tera e mezzo di ram finché noi vogliamo mettercene quindi al fine di rendere il mac modulare quella scheda madre è una bestia quindi in pratica voi non potete permettervi il lusso di pagarla una scheda madre del genere meno di tipo 4000 dollari solo la scheda madre perché ho visto un pochettino il mercato online e non si trova nulla ma proprio nulla di simile di schede che reggano un carico di ram così alto poi ovviamente il socket per la cpu a 28 core fa la sua parte nel costo e poi anche il design di questa motherboard che come dice apple e alcuni youtuber hanno criticato permette l'accessibilità alla ram è vero sì di solito la ram nei computer consumer è accessibile subito il problema è che qui stiamo parlando di computer di workstation quindi diciamo che è un po più complessa la cosa quando si può mettere mano su una workstation a gradarlo è un po più complesso e invece apple l'ha reso molto semplice togliendo semplicemente la copertura con la comodissima maniglia ma quindi perché il prezzo di base è giustificato l'abbiamo capito infatti se la scheda madre costa così tanto possiamo farci un'idea del fatto che il processore octa core di base costa solo lui 1300 euro la scheda video di base costa da sola oltre 500 euro i 32 giga di ram si fanno ben pagare intorno ai 500 euro anch'essi e 6.000 euro li abbiamo raggiunti subito senza considerare sistema fanless senza considerare il case l'alimentatore da un kilowatt e 4 che è assurdo quindi il fatto stesso che questo computer sia modulare rende il tutto molto molto più costoso perché noi in prospettiva di un futuro cioè ma meglio questo computer lo compriamo oggi ma fino a per dieci anni almeno credo vabbè la tecnologia si evolve velocemente ma almeno sei anni questo computer vive perché arrivare ragazzi a riempire un terra e mezzo di ram è impossibile anche dei professionisti più estremi è proprio impossibile a meno che voi non utilizzare questo computer come server ma questo computer non nasce per essere un server comunque tenendo conto di questa cosa possiamo andare a vedere i prezzi andiamo a vedere ad esempio nel listino prezzi dei macbook pro oppure degli vecchi cestini ovvero i vecchi mac pro i prezzi dell'upgrade della ram bene possiamo vedere che passando semplicemente da un taglio all'altro con una trentina di giga di scarto apple ci richiede la bellezza di 200 300 dollari 200 300 dollari che sono un prezzo sul mercato globale molto alto perché apple tende a mettere questi prezzi molto alti però noi acquistando la ram alla giusta frequenza che 2933 se avete configurazioni con core superiore agli 8 oppure 2133 se avete delle configurazioni con octa core possiamo andare a fare il nostro upgrade personale quindi spendendo molto di meno infatti per mettere 1536 giga venduti a 10 euro al giga da parte di apple sono 20 mila euro di ram ok circa invece comprandola esternamente questa ram potremmo scendere molto di prezzo quindi la caratteristica di questo mac non va vista nella versione maxata come tutti quanti stanno facendo per vedere e quindi ovviamente sembra un mio dio e buco più di 50 mila euro no va vista nella sua versione base in prospettiva in quanto noi acquistando un computer da 6 mila euro oggi possiamo averlo su un lungo periodo e permetterci di fare dei piccoli upgrade volta per volta infatti se a breve tra i conti a breve dovrebbe uscire la nuova ram di tipo ddr5 la ram attuale ddr4 che monta il mac pro scenderà di prezzo e ma poi oltre a scendere di prezzo la ram scendere di prezzo comunque perché dopo dei picchi di mercato che ha avuto ultimamente andrà a calare il prezzo della ram dato che le fabbriche stanno facendo sempre più ram e quindi potremmo permetterci un upgrade a un costo minore cosa voglio dire con questo è semplicemente sul lungo periodo la spesa non sarà eccessiva infatti potremmo acquistare anche la scheda video che uscirà in quel momento potremmo montarci ciò che vogliamo a part a patto che sia di fabbricazione md ovviamente ma possiamo evolvere questo computer ed è questa la cosa più importante il fatto che sia modulare e che poi lo sia interessato a venderne praticamente la versione base fatti e poi non è che ha detto che vende la versione da un canale e mezzo di ram probabilmente la venderà però al kino ha pubblicizzato una sola versione quella basic che infatti è rivolta all'acquisto perché non penso che qualcuno acquisterà mai una versione da un canale e mezzo di ram altrimenti voglio conoscerlo cioè neanche montare di videogiochi da 100 giga riempi un canale e mezzo di ram considerando che poi puoi avere massimo 4 tera di ssd e un canale e mezzo di ram però lasciamossare quasi più la ram che l'SSD detto questo ragazzi io spero che queste considerazioni vi siano piaciute mi piacerebbe vedere una discussione qui sotto nei commenti il cui andate a dire la vostra al riguardo in quanto magari sia un computer da acquistare o meno a mio parere per i professionisti e solo esclusivamente per essi è un computer da acquistare se sono già coinvolti nell'ambiente mac ovvero cosa intendo se all'interno di un'azienda possiedono dei macbook degli ipad e qualsiasi tecnologia apple che possa rendere comodo il passaggio dei file con airdrop o tutte le tecnologie che apple implementa nel suo ecosistema ovviamente questo computer è un must have in quanto faciliterà tutti questi compiti e renderà il lavoro molto più semplice se invece queste aziende vogliono acquistare da capo oppure si apre un'azienda e dice acquistiamo un computer quale computer prendiamo alziamo una mano prendiamo un computer ipad bene non è proprio l'idea migliore intanto fatemi sapere cosa pensate lasciando un commento qui sotto lasciate un mi piace per farmi sapere che vi piacciono queste considerazioni obiettive del termine in quanto appunto sono state delle considerazioni molto obiettive infatti l'ho detto è il miglior computer ma bisogna sempre andare a vedere in quale ambito ci si va a mettere e poi magari iscrivetevi al canale ed avrei grande piacere spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.